ragazzi siamo pronti oggi prendiamo un trenino per ai afferrovinostato ciuffa 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 fino aca qui guardate a me le pulpe guarda queste pulpe stamattina tutti quanti vivi ragazzi a noi stiamo in da ferrovi costanti stiamo vieni a breve vieni qua ma che lei guarda queste pulpe ma che lei ti porta sempre a cloro stu aglio vieni 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 vai vieni vieni qua che frischetto e di me arriva alla vecchia in 5 minuti vieni qua no ci vuole un motorino guarda qua qui guarda qua che pulpe stamattina vieni qui guarda qua vai 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 vieni qui buongiorno ragazzi buongiorno 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 a tutti guarda qua qua queste pulpe guarda qua ma che lei ma che è successo ma che lei guarda qua le pulpe mi danno colore in gol e continuano sempre ai polipi guarda qua la pulpe è cascata guarda qua stamattina guarda qua che bellezza calamari sempre vivi mio fratello nemo nemo a cadastro c'è da vieni qua via vieni qua via calamari vivi guarda qua qua guarda qua questa treglia non è una treglia è un bombolone guarda qua ma che amicurato totani calamarelle ora è bella pezzogna dentici locali vado su dentici ma che lei mare profumo di mare e anche per tutti quanti, cuocci grandi, cuocci piccoli, ancora calamari, ma che resta guagliù? Ma ripigli questi calamari, dove li prende questi calamari? Vieni, cuocci, spigoli grandi, sogli, loro, adottano quando ne vanno al bidello, gamberi bianchi, ma azzacogne si riceve. Ancora moscardino per tutti quanti, ancora moscardino, mamma mia, a pedane il primo, a pedane. Grazie a mio amico fratello, bollaro, bollaro, ancora catastese, ancora catastese, seppia locale, ecco qua, che freschezza, e tra poco facciamo re, teniamo, una bella cosa, astici proprio canadese, non devi fare quadrata e 15 kg, cicala, mazzamma, ostri che è mie, vieni a presto ostri, ragazzi, ostri che è limitato, pepe di nama, l'ostri che ho trinca all'interno, edizione è limitata, solo da pepe di nama, vai giù, aspettiamo a tutti quanti, salmone, tosh, auli, baccalà, teniamo, teniamo, vieni, 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 vieni. Allora, il vero baccalà è questo, deve tenere la pelle qua e la pelle qua, ti fidate delle mediazioni, un baccalà 6 euro, 7 euro, 8 euro, non è baccalà, è l'inca, è una truffa, un bacio.